Buongiorno, hai gettito al meglio sotto l'aspetto energetico questa gara perché ti abbiamo atteso lì al basto di Teresinella, hai amministrato le tue energie e poi ti abbiamo visto riprendere lungo la discesa, raccontaci le tue impressioni. Sono partita ignara di quello che era il percorso, un percorso meraviglioso, bellissimo, una bellissima accoglienza, sono felicissima, ho trovato di fronte a me delle avversarie meravigliose, ci siamo scambiati consigli, ci siamo detti nomi e alla fine ho ripreso la ragazza bionda e piano piano ci ho creduto, ci ho creduto a un angelo in cielo che mi ha guidato. Gridaci il tuo nome, gridaci a me. Martina! Martina, grande, saluti al pubblico.